buongiorno a tutti i ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video guardate qui dove sono ecco qua località santanaga cantù sono pronto per iniziare la nuova scheda oggi faremo un test correrò per cinque chilometri torrerò tutto tramite strava e vediamo cosa realizzo allora è tutto pronto adesso vado a impostare strava e ragazzi fatta questa prima uscita di cinque chilometri li metto qua il tempo ovviamente non è dei migliori da tanto che non uscivo solo a correre poi a mezzogiorno corso praticamente su quel deserto poi sono andato dentro nei boschi va beh vi metto tutto il circuito che ho fatto qua niente questa era la prima uscita ci vediamo quei prossimi allenamenti allora ragazzi adesso passa la parte di calisthenics oggi a mezzogiorno avete visto ho fatto i cinque chilometri di corsa adesso la scheda di simone chiozzi guardate qua ho messo la foto nel post bene ragazzi allenamento di oggi finito andata bene durato circa un'oretta quindi per quanto riguarda la parte di cali bene oggi mi prendo una pausa dal calisthenics farò solo corsa come da programma che vedete qua ovviamente sempre con le mie five fingers ragazzi completamente lavato ho appena fatto i tre chilometri ma adesso sei per quattrocento metri mamma mia ragazzi sono ci mancano due ripetute da quattrocento mi sto demolendo mamma mia bell'allenamento però allora ragazzi non sono riuscito ad alzarmi prestissimo ma vabbè dai sono quasi le dieci e mezza il tempo non va neanche male quindi adesso mi aspetta un bel allenamento il quarto giorno che alla fine non è il quarto ma il quinto che come sapete ho tre giorni di corsa e quattro di cali oggi ho il mix in modo tale da riuscire a far capire anche al mio corpo che devono lavorare insieme le due cose vedremo come la cavo 5 chilometri di corsa circuito 5g comprende push up dips bar peace e pull up lo potete trovare sull'app e poi un chilometro di corsa finale ad andatura media vedremo dai non ho fatto colazione ho bevuto il caffè vediamo ragazzi mi sono sparato sotto la fontana perché si muore qua adesso mi aspetta il circuito di cali ragazzi finito anche il chilometro di corsa quindi veramente un'ottima preparazione sono già praticamente tiratissimo perché sono disidratato bel allenamento grande quindi ragazzi avete visto questa preparazione di questa settimana ovviamente vi ho messo qualche clip mi hanno preparato la scheda simone chiozzi per la parte di calisthenics ed elisa per la parte della corsa un po di difficoltà per quanto riguarda alcuni esercizi ma siamo andati a correggerli ho chiesto ovviamente consulenza loro loro mi hanno supportato tutta la settimana e sono riuscito a svolgerla diciamo egregiamente la prima volta che sono uscito a correre ho sentito un po ovviamente affaticamento soprattutto sui polpacci come vedete io utilizzo le vibram five fingers che quindi anche per il modo di correre vanno a sollecitare molto quella zona ma è un ottimo allenamento che parteciperò anche una 5 chilometri di corsa per mettermi alla prova questo progetto sia di vostro gradimento stiamo cercando di ampliare il più possibile il panorama del calisthenics di arrivare a più persone possibili quindi supportateci con un bel tasto like iscrivetevi al canale e condividete questo video io vi aspetto in una prossima diretta su instagram o un prossimo video qua su youtube un saluto da simone ciao ciao